Per introdurre la struttura di selezione vi propongo questo semplice problema. Si tratta di risolvere un'equazione di primo grado nella forma ax più b uguale a zero. Come tutti voi saprete, sicuramente la soluzione è x uguale a meno b fratto a. Ora andiamo a vedere qual è l'algoritmo risolutivo. Per prima cosa dobbiamo acquisire in input il coefficiente a. Successivamente dovremo acquisire in input il termine noto b. Poi ci dobbiamo domandare se a è diverso da zero. Se a è diverso da zero possiamo procedere al calcolo del valore di x utilizzando la formula x uguale a meno b fratto a. E poi produciamo in output il risultato. altrimenti se b è uguale a zero andiamo a produrre in output la stringa equazione indeterminata poiché in questo caso abbiamo la forma indeterminata zero su zero. altrimenti, cioè se b non è uguale a zero dobbiamo produrre in output la stringa equazione impossibile. Andiamo ora a disegnare il diagramma di flusso. Acquisiamo in input il coefficiente a Input a Acquisiamo in input il termine noto b Input b Quindi, riduco le figure Ecco Ora Se a è diverso da zero è una condizione e le condizioni devono essere inserite all'interno di rombi Quindi, disegno un rombo e all'interno vado a scrivere la condizione a diverso da zero Per l'operatore diverso userò la sintastica che utilizziamo in Java A diverso da zero Se a è diverso da zero Quindi, se a diverso da zero è true Allora, andiamo a calcolare x Quindi, x uguale meno b fratto a E andiamo a produrre in output il risultato Quindi output di x Altrimenti se a non è diverso da zero Cioè, se a è uguale a zero Quindi etichettiamo questo ramo con false In questo caso è necessario imporre un'altra condizione Bisogna chiedersi se b è uguale a zero Useremo un altro rombo b uguale a zero B uguale a zero Mettiamo sempre il ramo con true Allora, in questo caso corre produrre in output la stringa Equazione indeterminata Equazione indeterminata Se la condizione invece è falsa è falsa occorre produrre in output la stringa Equazione impossibile Bene Ora che abbiamo descritto cosa fare quando la condizione è vera e cosa fare quando la condizione è falsa possiamo chiudere questa struttura e naturalmente andremo a chiudere anche la struttura più esterna Da questo punto centrale più o meno cioè corrispondente a questo vertice tracciamo una freccia e dobbiamo solo più inserire il simbolo di terminazione Osserviamo la tabella che raccoglie i dati del nostro problema I dati sono tre il coefficiente di x che abbiamo chiamato a il termine noto che si chiama b e il termine incognito che è la x a e b sono dati di input devono essere quindi acquisiti e sono di tipo double x è un dato di output di tipo double Vediamo il diagramma di flusso e la relativa codifica java Allora la prima istruzione quella relativa al blocco 1 può essere codificata in java utilizzando la classe joption pane per creare finestre di dialogo in questo caso quindi il codice corrispondente al blocco 1 diventa a uguale double punto parse double aperta tonda joption pane punto show input dialog e tra parentesi la frase che vogliamo paia a video inserire a analogamente per quanto riguarda l'input della variabile b possiamo scrivere b uguale double punto parse double aperta tonda joption pane punto show input dialog aperta tonda inserire b invece il rombo viene tradotto con lo statement if in questo modo if aperta tonda scriviamo la condizione contenuta nel rombo quindi a diverso da 0 e chiudiamo la parentesi tonda e poi apriamo una parentesi graffa subito dopo la parentesi graffa andiamo ad inserire tutte le istruzioni che si trovano nel ramo vero nel ramo true quindi l'istruzione che si trova all'interno del blocco identificato con 4 che è un'assegnazione quindi x uguale a meno b fratto a e poi l'istruzione di output system punto out punto println di x naturalmente possiamo accompagnare la x con una frase esplicativa ma lo vedremo poi quando andremo a scrivere il codice in eclipse a questo punto termina il ramo vero della condizione dello statement if e pertanto andiamo a chiudere la parentesi graffa che abbiamo aperto in precedenza il ramo false contiene della prima condizione contiene un'altra condizione e altri rami true false allora dobbiamo fare attenzione a non confonderci intanto per identificare le istruzioni del ramo false usiamo la parola chiave else e apriamo una parentesi graffa andiamo anche a chiederci se b uguale a 0 utilizzando sempre lo statement if cioè if aperta tonda b uguale uguale 0 vi ricordo che l'operatorio di eguaglianza in java è rappresentato con il doppio uguale e anche qui subito dopo l'if apriamo una parentesi graffa ora andiamo a scrivere l'istruzione che si trova nel ramo vero della condizione b uguale 0 questa istruzione è un'istruzione di output e quindi scriveremo system punto out punto println tra virgolette equazione indeterminata chiuse virgolette chiusa tonda punto e virgola chiudiamo anche la parentesi graffa che abbiamo aperto in precedenza poiché te sono terminate le istruzioni del ramo vero ora ci troviamo a dover analizzare il ramo false della condizione b uguale 0 per cui andremo a scrivere else apriamo una parentesi graffa e all'interno di questa scriveremo un'altra istruzione di output system punto out punto println e tra parentesi scriveremo equazione impossibile equazione impossibile chiusa tonda punto e virgola chiusa la graffa che abbiamo aperto subito dopo l'else e attenzione perché avevamo aperto una graffa in corrispondenza di questo else pertanto dobbiamo chiuderla qui non si vede molto bene perché il codice non è indentato in maniera corretta in eclipse si veda chiaramente la mancanza di una parentesi perché il codice è allineato in maniera corretta creiamo un nuovo progetto in eclipse un nuovo progetto java e lo chiamiamo equazione primo grado e poi clicchiamo su finish clicchiamo con il tasto destro del mouse sul progetto appena creato e scegliamo new package inserite un nome vostro nickname oppure un nome significativo per all'interno per indicare il package all'interno del quale inserirete il codice io uso il mio nickname punto equazione fate clic ancora con il tasto destro del mouse sul package appena creato e create una classe java chiamiamo questa classe equazione con la E maiuscola e poi cliccate su finish infine ecco il codice java possiamo fare la seguente osservazione io ho utilizzato system.out .println per l'output quindi l'output appare a console ma potevo utilizzare tranquillamente la classe joption pane con il metodo show message dialog come abbiamo già visto in un altro esempio e proviamo ad eseguire questo programma nei tre casi possibili allora inseriamo come coefficiente ha il valore 1 come termine noto 1 risultato dovrà essere x uguale meno 1 e di fatti così è proviamo ad eseguire questo stesso programma con coefficiente a 0 e con b diverso da 0 e il risultato è equazione impossibile infine inseriamo coefficiente sempre coefficiente a sempre uguale a 0 e coefficiente b uguale a 0 e l'equazione sarà indeterminata voglio solo farvi osservare una cosa ancora nel caso in cui il coefficiente a sia diverso da 0 per esempio 2 ma il termine noto b sia 0 il risultato dovrebbe essere 0 e qui invece ci appare in output meno 0 che ovviamente non ha molto senso pongo questa questione a voi e vi chiedo come la risolvereste provate ed eventualmente più avanti vi proporò la soluzione